Preghiera della Sera Al termine di questa giornata, mostraci ancora, oh Signore, la Tua misericordia. Accogli le nostre preghiere e donaci notte e giorno la Tua protezione, perché nelle vicende della vita siamo sempre sorretti dalla forza immutabile del Tuo amore per essere così degni del Tuo regno. Amen. Grazie.